Questa sigla è davvero fantastica, perché erano stati utilizzati delle foto e video in tempo reale, uno studio come in vita reale, è la scritta studio aperto finalmente in 3D. Fantastica sigla. Sì, proprio la scritta telegiornale 1. Il colore del mappamondo, che era rosso e blu. Mentre la sigla è bellissima. Davvero una fantastica sigla. Questa non sembra così male. Bella sigla. Ecco qui la primissima sigla di TG4. Davvero una bella sigla. La scritta 4 in giallo e la scritta TG in grigio. Bella sigla.